Nonostante il grande passo in avanti fatto dall'oncologia nella valutazione e nella prevenzione del rischio di cancro al seno, una donna su cinque non crede nella possibilità di poter essere vittima della neoplasia, pur entrando nel profilo di rischio. A verificare questa mancanza di fiducia nelle capacità della medicina basata sulla prevenzione, arrivata anche a scandagliare la storia familiare delle possibili pazienti, è uno studio della University of Michigan negli Stati Uniti.